buonasera a tutti allora iniziamo subito dovreste sentire la mia voce vedere il monitor mi raccomando prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio e quando cfd sono strumenti complessi e comportano elevato rischio di perdita del denaro in tempi previ a causa della leva il 65 per cento dei conti del cliente del dettaglio di tech mill euro per il td perde denaro facendo training con cfd valuta se comprendi come funziona cfd e se puoi sostenere elevato rischio di perdita del denaro allora questa sera abbiamo il secondo appuntamento insieme a daniele garlando trader e direttore della community di ml robot però come sapete prima di entrare nel vivo parleremo anche questa sera di cotter e porto quindi la seconda parte ne abbiamo già parlato abbiamo fatto una anticipazione del cotter e porto che trovate la registrazione sul sito sul canale youtube di tic mil e quindi questa sera andremo a vedere un po come applicare i dati del cotter e porto sui grafici quindi come dicevo però prima di entrare nel vivo come sapete c'è sempre la presentazione del broker che rappresento che tic mille europe tic mille europe un broker non di ring desk il che significa che il cento per cento delle posizioni vengono inviate ai liquidi provider regolamentato dalla size che è registrato presso la consob il che significa che i fondi sono segregati e separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro la velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,2 secondi grazie agli oltre dieci server sparsi per il globo gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato non ci sono commissioni sugli indici e avete la possibilità di negoziare i micro lotti sugli indici sia sugli indici americani che poi anche sul dax con tic mille non avrete mai un report e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune come scappi in arbitraggio eccetera non ci sono costi né sui depositi né tanto meno sui prelievi questo è uno screenshot che ho preso dal sito della consob dove potete andare a visualizzare il numero di iscrizione con cui tic mille è registrato presso la consob che è il 43 10 tipologia dei conti sul lato cfd tic mille offre tre tipologie di account il conto pro il conto vip che sono quei conti più utilizzati perché hanno uno spread a partire da zero a cui va aggiunta una piccola commissione poi c'è il conto classico che non ha commissioni però gli spread sono un po più alti partono da 1.6 inoltre tic mille si è lanciato anche sulla i mercati regolamentati sui futures attraverso la piattaforma cqg trovate un po' tutte le caratteristiche di questa piattaforma inclusi i costi di commissioni e i vari costi anche per poter negoziare attraverso la cqg sul nostro sito internet è sempre rimanendo sul discorso dei mercati regolamentati è possibile anche connettere le proprie piattaforme attraverso le nostre connessioni api con chi è magari a training view e poi su training view vi faccio vedere una cosa molto carina e abbiamo lanciato un'offerta che sicuramente vi invito caldamente a prendere in considerazione oltre training view potete negoziare attraverso la multichart o sierra chart con il flusso dati di cqg ritornando sul discorso dei cfd tic mille è molto competitivo come potete notare sicuramente da questa tabella che non è di tic mille ma di un sito esterno un famosissimo my fx book noterete come per la maggior parte del tempo tic mille abbia di spread delle commissioni più basse rispetto ad altri broker a livello globale e chiudo la presentazione con questa piccola tabella riassuntiva delle commissioni in questo caso prendo come l'esempio un lotto di euro dollaro dove viene applicata la commissione di 4 euro run turn sul conto pro e 2 euro run turn sul conto vip il che significa un risparmio di circa il 30 per cento rispetto di altri broker con il conto pro e addirittura oltre il 60 per cento con il conto vip prima di passare la parola a daniele volevo farvi vedere appunto training view con tic mille perché è possibile adesso negoziare attraverso i mercati regolamentati con la piattaforma training view e c'è un'offerta che abbiamo lanciato fino alla fine di ottobre dove praticamente potete provare quindi la piattaforma training view pro perché sapete che su training view c'è il profilo base ma c'è anche il profilo pro quindi fino ad ottobre non pagate il profilo pro e anche la connessione dati che è necessaria per poter connettere training view ai vari broker che ha un costo di 10 dollari al mese verrà non verrà appunto addebitato fino alla fine di ottobre chi vuole e può provare queste questa nuova piattaforma in casa tic mille basta iscriversi sul sito di tic mille quindi puoi fare richiesta vi contatterò io personalmente per poter poi applicare diciamo questa promozione ok allora io ho finito la mia presentazione e do il benvenuto a daniele ciao daniele mi sento giuseppe mi senti bene sì benissimo allora interromo anche la condivisione così la possibilità di condividere il tuo momento vado di condivisione ok nel frattempo rispondo a qualche domanda sì il webinar sarà registrato francesco ed è anche adesso live sulla pagina di tic mille italy su facebook ok come dicevo questo è il secondo appuntamento con daniele nel primo abbiamo parlato del cot report e quindi continueremo un po questo discorso e ti lascio la parola daniele e nel caso ci siano domande comunque non so se tu riesci a leggere però il caso siano pertinenti a quello che stai spiegando ti fermo un attimo e magari sì sarà difficile per me leggere ma al limite facciamo come l'altra volta tu vedi in questo momento il mio schermo ovvero la mia slide assolutamente sì beh intanto quante belle novità giuseppe ho sentito ho ascoltato con attenzione il riferimento tra il view e anche quello a quello sui mercati regolamentati al ai futures che è proprio quello di cui parliamo no letto abbiamo letto alcuni argomenti alcune cose che abbiamo già imparato durante la prima lezione insieme all'inizio di questa live voglio ringraziare come sempre te giuseppe per l'invito l'ottimo broker tic mille con cui mi sto trovando veramente bene personalmente da cliente esattamente come tutti voi che siete collegati e voglio ringraziare tutti quanti voi per il grande riscontro che abbiamo ricevuto nella nostra prima puntata pubblicata sia in diretta che poi pubblicata su youtube al di là del successo della delle cose belle dei complimenti è sempre bello riuscire a creare interesse su degli argomenti a suscitare interesse su degli argomenti così importanti tra l'altro oggi questa seconda lezione insieme casca a fagiolo per io perché sulle cose che abbiamo già imparato tre settimane fa insieme e quelle che vedremo oggi questa è proprio ritengo personalmente mi espongo una settimana cruciale è un periodo cruciale diciamo da qua fino ancora per qualche giorno forse ancora siamo qua diciamo che tante delle cose che vedremo oggi a mio avviso stanno succedendo su alcuni mercati in questo momento e lo vedremo proprio lo vedremo insieme questa sera prima di iniziare do tre annotazioni di base penso che siano utili intanto qua vabbè in sottofondo vedete la mia email come già accaduto e vi ringrazio per le belle parole che mi avete mandato anche per le richieste che ciascuno di voi mi ha mandato per qualsiasi informazione la mia email la vedete qua su questa slide danielegarlando.com e la mia email personale potete serenamente scrivermi e chiedermi qualunque cosa sarò felice compatibilmente chiaramente con i vari impegni di rispondervi comunque è sempre sempre molto bello e ringrazio chi già lo ha fatto dopo la prima lezione insieme la prima cosa che volevo dirvi chi non l'avesse ancora vista penso che sia sia importante sul canale di youtube di tic mil alla sezione video la trovate trovate la prima lezione fatta insieme dovete andare a cercare due settimane fa eccolo qua come interpretare i dati del cot questa qui la prima lezione che abbiamo fatto insieme la trovate su youtube è molto molto importante che se siete qua in diretta non avete ancora avuto occasione di vedere la prima va benissimo ovviamente però io non ripeterò più tutti i concetti chiaramente esposti nella prima lezione lezione che è stata è stata molto molto seguita come vediamo anche dalle visualizzazioni lezione in cui però soprattutto abbiamo dato tutte le indicazioni fondamentali per riconoscere il valore della conoscenza di questo tool speciale fantastico oserei dire gratuito abbiamo l'opportunità di ricevere dalla cftc dalla agenzia di vigilanza americana cftc ogni settimana e che è il cotreport quindi tutto quanto detto nella prima lezione io ovviamente oggi non lo ripeterò perché il tempo non è tantissimo e vogliamo oggi fare una seconda puntata direttamente sui grafici e vi farò vedere delle cose che sicuramente susciteranno il vostro interesse almeno ci proverò sapendo che chiaramente nel breve tempo che abbiamo a disposizione non posso ovviamente insegnarvi delle strategie specifiche ma sicuramente vi posso garantire che all'interno di questi 40 50 minuti che passeremo insieme intanto potrete vedere con i vostri occhi la grande messe che rappresenta la conoscenza del cotreport per un buon trading per un buon trading sereno secondo me ma lo vedrete con i vostri occhi come anticipato nella lezione precedente ma soprattutto la filosofia che ci sta dietro e sarete in grado al termine di questa lezione ciascuno di voi indipendentemente che siano i primi mesi che vi siete approcciati al trading o che abbiate o che avete già una grande esperienza ma non conoscete bene questo argomento bene chiunque sarà in grado di applicare fin da subito fin dalla fine di questa lezione le cose che io dirò in modo tale che vi potrete divertire nei prossimi giorni e poi per qualunque cosa per qualunque approfondimento sapete appunto che mi potete scrivere personalmente personalmente io sarò molto molto felice di rispondere a ciascuno di voi l'ultima annotazione che desidero fare e che l'ho detto nella prima nella prima puntata insieme ve lo ricorderete senz'altro noi promuoviamo un concetto di trading sereno che cosa significa concetto di trading sereno delle volte questa cosa potrebbe a chi non capisce il senso di questo termine suscitare anche un po di larità fortunatamente succede succede molto poco più spesso invece c'è un grande interesse dicevo nella lezione precedente dicevamo anche con giuseppe io vengo da un altro campo che quello dalla psico della psicologia io sono arrivato al trading primariamente per aiutare le persone o per cercare di dare una mano nel mio piccolo e per quanto possibile alle persone che vivevano una situazione di disagio alle persone che magari sono state truffate alle persone che magari hanno perso i loro soldi magari per negligenza propria chiaramente per non con conoscenza dei mercati per aver creduto qualche a qualche prodotto farlocco perché no perché sappiamo benissimo tutti che succede anche questo però il mio primo scopo era quello di aiutare chi vive in un modo da gambler da giocatore il trading a uscirne a uscirne un po meglio negli anni nel corso degli anni mi ci sono appassionato ho scoperto che il trading è qualcosa di veramente utile perché il trading è veramente una possibilità data a chiunque a chiunque abbia voglia di mettersi di buzzo buono e veramente con con la testa ovviamente sappiamo che la cosa principale di anche trovare una propria indipendenza finanziaria che cos'è l'indipendenza finanziaria e la possibilità di gestire il proprio denaro senza bisogno di darlo in mano al primo che passa col col passamontagna sotto casa o alla prima persona che ci passa intorno arrivare ad avere una consapevolezza e a farlo sui mercati sappiamo tutti che non è una cosa semplice però io ho imparato personalmente nella mia vita grazie a questo percorso che è possibile e quindi quando io dico che promuoviamo un trading sereno e dico promuoviamo al plurale perché siamo una community la dml robot la nuova diciamo il nuovo upgrade del nostro progetto è una più ampia community di persone che cercano di crescere insieme di condividere le visioni dei mercati le analisi settimanali dei mercati di condividere quelle che possono essere le intuizioni e le previsioni sui mercati e di crescere insieme in un'ottica di trading sereno che cos'è il trading sereno è un trading e stiamo venendo al punto è un trading che si basa non sullo stare in modo anche permettetemi di nuovo di dirlo perché questa è la mia visione un po tossico sui mercati 24 ore al giorno sui grafici 24 ore al giorno un trading invece fatto di serenità fatto di altre cose un trading fatto più sul medio lungo termine un trading fatto sapendo individuare abbiamo visto nella lezione precedente in anticipo il cambiamento di determinati trend e quindi quei punti di rottura che daranno probabilmente vita a un nuovo diciamo se prima eravamo in long a uno short se prima eravamo in short a un long e di poter fare questo trading buttando sì ogni tanto l'occhio ai grafici ma con quella serenità che viene dalla consapevolezza che ok io adesso mi aspetto che canadian dollar vada giù rispetto ai us dollar e che il momento non fosse tre settimane fa due mesi fa o fra quattro mesi ma che ci siamo ok questa consapevolezza mi permette chiaramente di avere una posizione in maggiore serenità questo significa trading sereno e credimi giuseppe credetemi tutti la soddisfazione più grande per me e quando riesco a vedere questo nelle persone che stanno intorno a me nelle persone nei membri della nostra community questo per esempio è uno dei dei nostri gruppi è chiaro che al di là ecco adesso di quello che i cari amici che fanno parte della community possono scrivere o o condividere che fa sempre tanto tanto piacere quando condividono i loro successi ecco la quello che è il trading sereno prima di tutto una filosofia di vita perché ho detto questo fatto queste annotazioni perché sono fondamentali all'inizio di questa live perché adesso andiamo sul pratico vedete già di fronte a voi una immagine di un cambio di un cambio su due valute cioè il dollaro neozelandese il dollaro americano adesso scopriremo perché ho messo questa questa slide dal telegram bene perché il cotreport quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e parleremo questa settimana sui grafici è proprio ciò che ci permette insieme all'individuazione dei di quei breakout di cui anche abbiamo già anticipato la scorsa settimana e ciò che ci permette di andare a mercato secondo la nostra visione in modo sereno che ci permette non di stare tutti i momenti a cercare un'operazione ma e qui è la chiave la capirai benissimo all'interno di questo webinar o almeno proverò nel poco tempo che c'è a far te la capire benissimo e sono sicuro che la capirai ecco a individuare quella probabile a riuscire a anticipare i mercati riuscire a trovare non quindi una operazione qualsiasi quotidianamente mettendosi davanti ai grafici ma quella operazione quel long che per esempio su sd card magari sta partendo quello short che magari su euro dollari su euro dollaro sta partendo quella determinata operazione sul tuo strumento che magari ti porterai avanti per un mese o due questo il concept che sta dietro quindi ritornando all'inizio di questa lezione al concetto chiave della lezione precedente io ti ricordi quando ti chiedevo nella lezione scorsa immagina se non saresti contento contenta di scoprire che c'è la possibilità di fare magari 10 12 operazioni in un anno su 10 12 strumenti una due operazioni all'anno su 10 12 strumenti scelti secondo un'analisi precisa e che magari siano operazioni che ti diano 500 600 800 pips sull'arco dell'anno e quindi facendoti anche senza leva intorno al 10 per cento di profitto come abbiamo visto nella lezione precedente quindi non ci ritorno ecco questo è il concetto che a mio avviso e del mio consiglio per te deve stare alla base del tuo approccio ad un trading che non si basi sui cot attenzione ma che usi il cot come l'eccellente indicatore che c'è lo scopo del dell'analisi corretta del cot repont è quello di pont anti che deve portare a essere consapevole anticipare quella che può essere un'inversione dei trend e in questa lezione andremo a scoprire che è assolutamente possibile e te lo farò vedere con i tuoi occhi bene adesso in questo momento siamo sul telegram su uno dei nostri telegram della nostra community e perché ti sto facendo vedere questa immagine di nz di usb perché qua sta tutto quello che è l'aspetto cruciale di quello che ti anticipavo la scorsa settimana insieme tre settimane fa nella scorsa puntata ossia abbiamo visto noi abbiamo già parlato dei cot e ci stiamo per ritornare però ti dicevo che il grande combo è dato dalla capacità di leggere i cot ma poi soprattutto dalla capacità di riconoscere che cosa i momenti di breakout cioè quando cambia un trend sostanzialmente quando si rompe un trend in questo caso specifico mi piace tantissimo quindi mi sono fermato su questa immagine perché io vedo occhio nudo tre cose la perfezione di tre elementi che sono fondamentali per un trading di profitto per il nostro trading di profitto che leggendo i cot si basa poi sul trovare la vera linea di breakout per entrare al mercato e nel z di usb qua vediamo una linea la vedi quassù tratteggiata immagina che questa linea sia e come lo è un livello dinamico importante vedi che va dal basso verso l'alto si significa che prima di questa immagine qua nei giorni precedenti il mercato stava sopra questa linea sopra questo livello dinamico si dice e a un certo punto il mercato noi lo vediamo qua dove ha già rotto quindi lo vediamo sotto la linea ha rotto e vediamo i prezzi che stanno sotto alla linea che è stata rotta dandoci quindi che cosa probabilmente un impulso una previsione una indicazione short cioè si è rotto un andamento in acquisto quindi probabilmente stiamo sempre interessante in questo momento piazzarsi in vendita su nz di usb qua siamo a metà maggio quello che ti vuoi fare notare quindi è il livello che viene rotto ok che è stato rotto prima qui in questa immagine non lo vediamo ma lo capiamo dall'immagine una cosa ancora più fondamentale la seconda cosa è il supporto ossia quello che prima era la linea di rottura la mia linea personale e quella del robot di rottura vedi che la linea del robot perché qua vedi garlando cross indicator allora queste linee sono appunto le linee che io nella nostra community seguiamo chiaramente e questo è la linea che è stata rotta e diventata che prima era un supporto è diventata una resistenza cioè come sai benissimo il mercato ci picchia sopra ti faccio notare la perfezione in cui il mercato con cui il mercato ci picchia sopra e ne viene rimbalzata e questo momento non la rottura che come sa chiunque faccia trading fra di voi già con esperienza può essere una falsa rottura indotta da mille motivi che non stiamo a spiegare qua uno è anche quello dell'azione delle mani forti ovviamente ma è solo uno dei tanti la vera cosa che mi fa capire che ha invertito in questa situazione e che è diventata un'operazione in quinta in short è che il mercato ha picchiato contro quello che era il mio livello dinamico si è fermato sotto allora qui serenamente io apro una operazione in short in questo caso ho fatto circa da 72 77 70 quasi 100 pips ecco in questo caso ci sono quasi 100 pips ma c'è un terzo elemento anche qua molto molto importante che io vedo in questa figura che quello del take profit cioè vedi qua questa linea rossa questo evidentemente era un segno messo di uscita dal mercato quindi una operazione che dava 60 70 pips serenamente secondo le indicazioni che abbiamo visto ora in questa prima fase di lezione io ti sto per fare vedere delle cose questa è solo la prima ti invito a concentrarti bene su quello che stai vedendo non posso soffermarmi lungamente però cerco di semplificare in modo tale che possano capire queste immagini sia coloro che ovviamente hanno un'esperienza quindi non c'è bisogno che io gli spieghi niente ma anche coloro che magari vedono queste cose per le prime volte allora è molto importante che tu capisci quello che ti sto facendo vedere prendo a random delle altre figure sul nostro telegram ecco questa per esempio vedete le quattro faccine sorridenti e un'altra immagine del nostro robot che è molto carina usd card questa è molto carina perché perché fa capire come questa candelona che aveva fatto in questa questa candelona 15 minuti che aveva fatto nel pomeriggio del 12 maggio usd card fa capire come probabilmente avevamo preso bene il robot aveva preso bene il livello dinamico di rottura infatti la candela aveva sentito alla professione quel livello short come vedi parte dall'alto per andare verso il basso e quindi sapevamo avevamo un'ulteriore indicazione che questo era un livello importante ecco che lui ci picchiava sopra capisci da questa la chiave di tutto da questa immagine più ancora della precedente perché qua tu vedi un livello di rottura un livello dinamico importante secondo quello che sto cercando di farti capire ora siamo in vendita quando questo livello mi viene rotto io ovviamente mi aspetterò che cosa un'inversione long per farti capire meglio quello che ti sto facendo vedere andiamo sui grafici in diretta e eccolo qua usd card perfetto questa è te ricordi la linea che abbiamo visto poco fa qui ne vedi solo un pezzettino perché nel frattempo è stata rotta ok tu vedi che c'è scritto linea infatti garlando multiday rotta ok tu devi pensare che usd card veniva da un lunghissimo e pesantissimo short a un certo momento al 12 maggio avevamo già visto quell'indicazione che hai visto ci ha messo ancora un po e questa è la chiave c'è che stai concentratissimo in questo momento in questi per questi tre quattro minuti perché poi capirai benissimo quello che andiamo a vedere dopo che è la cosa cruciale allora c'era un trend short che veniva alla sinistra a un certo punto viene rotto qua e viene rotto appunto circa una settimana dopo dando un impulso si vede qua dalla rottura chiaramente long qui fa già un buon long vediamo questo un client e questo un conto l'esempio di un client appunto sul broker tic mil e facendo un sessantina di pips mi pare ok perfetto quello che ti faccio notare che il punto chiave e che a un certo punto come vedi il mercato come si dice come probabilmente già sai lateralizza dico lateralizza perché chi conosce bene i mercati sa che prima lui era sceso è sceso più tantissimo usd card e guarda caso quando c'è stata la rottura di quella linea che avevamo visto prima che era stata testata da quella candela m15 a un certo punto si è lateralizzato il mercato si dice in verità come vedi io qua non vedo una situazione in cui non tradare ma vedo tante operazioni questa è una rottura long questo è un rimbalzo ma è anche qua si vede l'anticipo di quella che è che è un rimbalzo ci sono almeno tre operazioni qua da fare molto carine non non stiamo a parlare di questo quello che conta e che adesso capisci quello che ti spiegavo la settimana tre settimane fa nella puntata precedente quando ti ho parlato di rochild ti dice ti ricordi cosa diceva rochild diceva un concetto chiave che è questo il che il concetto chiave che se lo dice lui al di là della persona probabilmente che di finanza qualcosa lo sa forse noi piccoli trader se non altro con umiltà come consiglio lo possiamo anche prendere è comunque una cosa a cui credo fermamente anch'io che non sono rochild però e cui credono tante persone il modo perfetto di fare trading che è quello che permette il cotrepont in questa visione è quello di l'unico modo diciamo un modo tranquillo di fare trading con saggezza e quello di sapere anticipare i mercati quindi non di seguire il trend non di seguire la massima trend is your friend ma cercare di trovare in anticipo quei momenti di breakout di rottura che sono quelli in cui il mercato cambia quindi usd cad arrivava da un lungo short ecco che adesso io ho un segnale due segnali tre segnali che mi fanno supporre una che mi fanno essere anche abbastanza sereno su una possibile inversione di tendenza al di là dei 60 pips che ci sono qua e dei 60 pips che nel frattempo ha fatto oggi usd cad da questa indicazione del mio robot ti faccio notare quello che diceva quello che diceva rocci il rocci il diceva compra quando c'è il sangue sulle strade anche se questo sangue fosse il tuo e ti dicevo cosa significa questo il gioco la chiave e riuscire a capire mentre tutti vendono per una situazione di panico qualunque altro motivo mentre tutti vendono di andare a comprare cercando di avvicinarti il più possibile al timing perfetto in cui comprare ovviamente siccome non abbiamo la sfera di cristallo non è che se facciamo un trading di questo tipo il giorno stesso in cui vediamo una rottura il mercato mi va nella direzione attesa magari c'è da aspettare una settimana alle volte c'è da aspettare anche due settimane o tre settimane o perché non di più la chiave è riuscire a beccare questi momenti quindi qua abbiamo trovato un bellissimo esempio di quello che ti stavo spiegando torniamo per un attimo a quello che ti stavo facendo vedere prima per vedere se c'è qualcos'altro di interessante ebbene usd cad ecco qua un usd chf ti fa capire cosa significa trovare chiaramente i punti di rottura la linea di rottura è questa chiaramente e il mercato va su e va su bene qui dando due indicazioni molto buone di long e così via qui abbiamo una rottura in short sono tutti esempi nzd usd sono tutti esempi di rotture di livelli dinamici gbp nzd eccetera 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 bello molto bello questo su gbp chf qui molto chiaro e molto pulito alle volte il mercato va quando rompe un livello lo rompe con una precisione assoluta e ti va su in questo caso facendo 160 pips che poi sono diventati ancora molti di più nelle ore successive a quando avevo per esempio pubblicato questa questa immagine in questo caso si vede occhio nudo cosa significa ed è questa la chiave di questa lezione cosa perché la lezione pratica sui grafici cosa significa andare a beccare le rotture andare anticipare le rotture riuscire a vedere quelli che sono i livelli dinamici importanti significa riuscire poi a fare anche dei trading di questo dei tre di questo tipo alle volte come abbiamo visto il mercato di traccia diventa laterale ma ciò che conta quindi è applicare la massima di rocci che abbiamo visto comprare quando tutti stanno vendendo al momento per cercando di azzeccare il momento perfetto ovviamente vale anche per vendere quando tutti stanno comprando evidentemente bene perché ti ho fatto vedere queste cose perché mi serviva all'inizio di questa lezione che tu capissi mentalmente quello che sta alla base del trading da fare sui cot del trading pratico da fare sui cot ossia il cot è un tool bellissimo come stiamo per vedere che ci dà delle indicazioni precise ma per se poi noi non le sappiamo tradare sui mercati un pasticcio allora il cot come stiamo per vedere in questa lezione ci dà l'idea di quello che possiamo andare a fare nel momento in cui non solo abbiamo imparato a capire che magari chf potrebbe andare giù nel prossimo periodo card potrebbe andare giù dollaro americano potrebbe andare su jpy potrebbe andare su non soltanto questo ma soprattutto poi al lato pratico azzeccare il timing perfetto come fa chiaramente il mio robot tra l'altro questo per dirti che cosa per farti capire che quello che stiamo vedendo oggi sui cot è proprio quello su cui si basa gran parte del trading che chiaramente noi insegniamo e che facciamo anche attraverso i nostri software cioè queste linee che tu vedi si basano essenzialmente partono da un'analisi approfondita dei cot poi non c'è solo quello ovviamente c'è una valutazione della forza delle valute c'è soprattutto la capacità di andare a trovare il livello dinamico perfetto il livello in cui può partire una rottura tutto questo insieme tutto questo insieme ci dà delle indicazioni precise e belle da usare dai mercati adesso che hai capito il concetti chiave che devono stare alla base riapro il powerpoint e facciamo un piccolo recap della lezione precedente chiaramente no ti ricordi quindi che cosa ti avevo detto nella lezione precedente perché è così importante conoscere quei livelli dinamici che abbiamo visto nelle immagini che ti ho fatto vedere adesso sui nostri grafici sono molto molto importanti eccolo qua a Rothschild perché questa frase no quindi compra quando c'è il sangue sulle vie sulle strade anche se il sangue fosse tuo ecco interessante annotazione perché dice anche se il sangue fosse tuo perché delle volte tu compri troppo in anticipo o vendi troppo in anticipo perché appunto non hai la sfera di cristallo diciamo che però come hai visto come hai visto perché io ti ho voluto apposta fare vedere delle slide pratiche o addirittura ti ho aperto il mio robot per farti vedere che in realtà c'è della sostanza dietro cioè tu puoi andare a capire il momento perfetto di inversione di tendenza guai a pensare il contrario il momento di rottura si può trovare ovviamente richiede impegno attenzione e chiaramente delle regole precise e un'analisi saggia però ecco delle volte può succedere che il mercato che l'hai anticipato troppo troppo e allora prosegue in direzione contraria e tu è lì che devi avere il sangue freddo che ti viene dalla consapevolezza di stare usando una strategia corretta la strategia che per esempio andiamo a vedere oggi stesso applicandola sui cot bene ti dicevo qual era la chiave della lezione precedente non torno alla spiegazione ovviamente dei cot ma ti dicevo che riteniamo che un trading profittevole uno dei modi di fare trading profittevole perché non abbiamo la pretesa di essere i guru che sanno tutto del trading e gli altri non sanno niente non abbiamo la pretesa di andare a insegnare ai gatti come arrampicarsi sappiamo sicuramente una cosa importante che la conoscenza approfondita approfondita dei cotra airport lezione precedente unita a sapere riconoscere alla perfezione i livelli di breakout cioè le rotture come ti ho fatto vedere nelle slide precedenti e sul nostro robot questo per me e per noi è sinonimo di trading profittevole punto e comunque nel trading quello che conta sono sempre 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 i fatti è molto bello pensare come abbiamo visto nella i fatti i numeri no i risultati è molto bello pensare come abbiamo visto una lezione precedente che in realtà i cot sono veramente un tool alla puntata di tutti anche di chi ha iniziato a fare trading una settimana fa infatti è una delle primissime cose che io insegno all'interno della mia scuola e sta alla base come una delle basi fondamentali dei software e come hai visto del nostro software del DML Robot perché è una cosa veramente non è ovviamente facile da capire bisogna studiarlo ma è semplice se spiegato nel modo corretto da iniziare a entrarci dentro e alle volte andiamo a studiare delle cose migliaia di cose quando invece sinceramente te lo dico ve lo dico sinceramente la conoscenza del cotra airport e la conoscenza dei livelli di breakout sono una combo straordinaria per un trading di profitto come lo vediamo esattamente all'interno di questa lezione nella scorsa faccio un piccolissimo recap perché magari c'è qualcuno che non ha visto la prima lezione nella lezione scorsa abbiamo visto che cos'è il cot ovviamente l'abbiamo visto in un modo talmente approfondito che se non hai avuto l'occasione di vederlo vai assolutamente a vedere sul canale youtube di Ticmill la prima lezione come ti ho fatto vedere all'inizio abbiamo visto che il cotra airport è uno strumento fondamentalmente nato per dare trasparenza cioè per rivelare e diffondere informazioni pubbliche sulle transazioni finanziarie aperte o chiuse dalle mani forti in quel momento sul mercato regolamento sul mercato dei futures e quindi queste informazioni avranno sono informazioni fondamentali perché sono poi quelle che avranno è vero o no un fortissimo impatto sui mercati che anche noi seguiamo perché è chiaro che sapere se le grandi corporazioni finanziarie o le grandi le grandi sia sia i commercial che non commercial come abbiamo visto ma i grandi grandi top player dei mercati sapere se stanno comprando se stanno vendendo su un determinato asset va da sé che vale più di qualunque altra cosa per mettersi a fare trading perché non è che questi facciano trading come abbiamo visto per prendere i loro soldi bene la cosa bellissima se ci pensiamo se ci pensi è che esiste uno strumento che è nato per dare trasparenza cioè è nato per dirci ogni settimana una informazione pubblica disponibile a tutti che come stanno operando sui mercati i grossi squali i big players le mani forti chiamale come vuoi che cos'è il cotrepo quindi è un resoconto rilasciato settimanalmente ogni venerdì sui dati del martedì precedente dal sito internet dell'agenzia governativa americana di vigilanza cftc sul sito cftc.gov a questo punto e prima di andarlo a vedere bene nel pratico ti ricordo quindi che il cotrepo e così come anche non so quelle che magari sono il mio indicatore tutte le cose tutti i tool del trading che tu puoi usare anche le cose belle che stai vedendo insieme a me sono chiaramente un ausilio non è che sono il sacro graal del trading il cotrepo è bellissimo lo usa Larry Williams l'ho spiegato nella lezione precedente lo usano tanti professionisti che fanno le cose serie ed è assurdo che tante persone normali clienti retail non sappiano neanche cosa sia perché nessuno gliel'ha mai insegnato il cotrepo è una messa di informazioni straordinarie ed è tutto è tutto quello di cui abbiamo bisogno per fare almeno per fare una prima analisi concreta una cosa fantastica quindi usiamolo sempre e percepiamolo come un tool che ci aiuta per fare trading nel modo migliore ok unitamente poi alla nostra capacità di andare a cercare le rotture ecco che abbiamo ci togliamo delle soddisfazioni no ovviamente perfetto adesso andiamo un pochino sul pratico e per andare un pochino sul pratico che è quello per cui oggi probabilmente sei venuto qua vado a prendere il cotrepo come l'abbiamo visto l'altra volta quindi hai capito hai chiaro quanto sia fondamentale adesso la lettura del corso secondo quello che abbiamo visto la scorsa puntata insieme e quello che abbiamo visto oggi l'importanza di riconoscere i breakout lì sta la chiave di questa tipologia di trading fatto sul cot adesso andiamo a vedere come adesso io ti ho aperto il cot settimanale questo come vedi è l'ultimo pubblicato perché quello pubblicato venerdì scorso 21 maggio sui dati del martedì precedente il 18 maggio il prossimo venerdì il 28 maggio uscirà il nuovo report se non ti ricordi questo qua in alto è detto nella lezione precedente questo qua in alto poi guardi la registrazione e l'indirizzo da andare a digitare per avere in qualsiasi momento il dato preciso live di questo momento del cotrepo ora voglio soffermarmi un secondo su quello che è questo vedi che è un cedolino è un cedolino fatto semplicemente scritto e il cot mi piace tantissimo questo perché anche un insegnamento personalmente che vale per tutti i campi della vita non soltanto per il trading e che un insegnamento che io cerco di fare caro a me dalle persone che mi ascoltano che quello della semplicità tante volte le cose belle verono che le cose veramente importanti stanno nella semplicità e non magari in migliaia di pagine di libri o in conoscenze assurde che per carità fanno sempre bene però qui in questo piccolo cedolino in questi piccoli dati che si riferiscono al future dell'euro della scorsa settimana di due settimane fa abbiamo dei dati che sono una messe incredibile come stiamo per vedere di informazioni sono sicuro che purtroppo fra voi che mi state ascoltando perché questo vi ricordo che è il motivo per cui sono arrivato al trading a motivo del mio lavoro nella psicologia ma anche ormai per l'esperienza di anni ma sono sicuro che anche la vostra ci saranno sicuramente qua dentro in questo momento delle persone che hanno perso soldi con il trading delle persone a cui magari che magari c'erano i soldi spesso i soldi li hanno persi non solo perché hanno sbagliato loro ma perché hanno seguito investimenti idee di investimenti sbagliati o peggio ancora hanno dato i loro soldi a qualche gestore che caso strano li ha persi e questo quanto ci fa capire quanto sia importante arrivare a parroneggiare le cose semplici che ci permettono appunto di essere indipendenti sui mercati semplice non significa facile ovviamente questo cedolino che il cot bisogna imparare a leggerlo bisogna andare ad applicarlo nel pratico se no così non serve a niente perfetto che cosa c'è nel cot te lo ricordi abbiamo il future dell'euro abbiamo il riferimento della sua di dove è tradato diciamo così chicago mercantile exchange come ha fatto vedere tra l'altro all'inizio della live giuseppe per il servizio sul mercato regolamentato di tic mil e abbiamo che cosa abbiamo le posizioni long short di chi delle mani fonti dei mercati che si dividono come ha imparato con me la scorsa puntata in due categorie non commercial e commercial i non commercial sono i grandi speculatori large speculators i commercial come abbiamo visto sono chi sono coloro che attuano per motivi che abbiamo spiegato diffusamente nella scorsa puntata quelli che operano in modalità contrarian e che sono principalmente tante volte proprio quelli che seguiamo che cosa hai qua hai un dato che pazzesco questo dato dice che che è uscito venerdì 21 maggio sui dati che sono arrivati alla cftc martedì 18 maggio sulla settimana precedente ci dice in quella settimana 10 15 giorni fa come stavano i non commercial posizionati quanti contratti avevano long quanti contratti avevano short ci dice anche i cambiamenti che nel frattempo erano avvenuti dalla settimana precedente ti rendi conto di quanto sia importante avere la possibilità di avere questo dato qui c'è un dato facilissimo da leggere che ci salta subito agli occhi no che la differenza tra i contatti contatti long e short dei non commercial degli speculators è circa 100 mila contratti 232 mila contro 132 mila la differenza dei commercial e invece circa ricordati di questo di questo che ti sto dicendo circa 170 mila contratti short in più rispetto a long i non commercial circa 100 mila contratti in più long vediamo anche che le non reportable positions cioè il parco buoi o comunque i piccolini del mercato appunto le posizioni non riportabili stanno più in long anche questi di circa 70 mila contratti long bene adesso andiamo a vedere cosa questo significa e come questo si possa tradare nel pratico ma ti rendi conto prima che andiamo appunto al pratico ti rendi conto di quanto sia importante sapere se le mani forti sono long o sono short in questo momento se lo erano due settimane fa un mese fa ok ora visto così questo grafico ci dice poco se non lo conosciamo a memoria io per esempio chiaramente conosco benissimo i cambiamenti che ci sono stati nell'euro no che è andato sopra i 200 mila per esempio di differenza quindi ho tutta l'anamnesi dei dati precedenti per sapere esattamente leggendolo così cosa significano i dati qua davanti avere la mia far formularmi le mie idee e immaginare che diciamo non dire mai sapere perché per non essere presuntuoso però aspettarmi un bello short nel prossimo periodo su euro dollar che magari capace di iniziare dalle belle indicazioni di short che stiamo ricevendo negli ultimi giorni e conferma short tra l'altro qua si vede di nuovo cosa significa una rottura in questo caso cosa ti sto facendo vedere ti sto facendo vedere che ho analizzato ho cominciato a analizzare i dati dell'euro sono andato a cercare i momenti buoni per uno short vedi che qua ce n'è uno ce n'è due e ce n'è tre anche se poi ha in realtà è proseguito questo si poteva leggere come un long qua oggi abbiamo avuto la conferma poco fa tra l'altro perché questo è circa due ore fa ed è già andato giù abbastanza chissà che non sia già se non sia già questo momento ma questa immagine come quelle che abbiamo visto prima fa capire a occhio nudo quanto sia importante riuscire a anticipare questi livelli ora siccome dicevo ti dicevo queste indicazioni non sono di facilissima lettura ti faccio ti ho fatto un regalo nella scorsa puntata ti ho detto non andare a spendere soldi in cose inutili perché qua prima di tutto facciamo educazione cerchiamo di dare un aiuto a chi vuole veramente imparare delle cose pratiche serie e veramente alla puntata di tutti se spiegate bene e allora ti ho parlato di una bellissima di un bellissimo tool gratuito che sta online che trovi online che timing charts.com tu apri timing charts.com e non ci ritorno adesso ad ante l'indirizzo perché l'abbiamo visto la scorsa puntata insieme sul finire adesso andiamo a vedere perché è così bello e importante timing charts.com per farlo ti ricordo consiglio mio vai qua e metti le tue candele giapponesi poi metti quello su cui ti trovi meglio qua sotto andiamo a mettere i cinque anni così vediamo che cosa un grafico dei prezzi euro dollaro che è abbastanza lungo ci parte dall'estate del 2016 e poi clicchiamo qua sul pulsante cot cot che è quello che stiamo parlando per cui sopra ci troviamo il grafico dei prezzi euro dollaro perché stiamo parlando di cosa del future dell'euro al cme cioè al chicago mercantile exchange quindi tutti i cambi che vediamo sono ovviamente rapportati a che cosa al dollaro americano questi sono i dati del future dell'euro quindi grafico dei prezzi euro dollaro e sotto i cot cioè quel cedolino che abbiamo visto poco fa che ci diceva circa centomila contratti in più long non commercial circa centosettantamila contratti in più commercial e circa settantamila contratti in più long delle non apportable positions lo vediamo qua ossia il verde a circa centomila lo vedi scritto qua cento uno mila chi sono sono i large speculators i rossi sono le non apportable positions che come vedi stanno sempre sulla terra di mezzo perché non capiscono nulla i trading mediamente quindi vanno a caso e poi in larga parte e poi abbiamo la linea blu che è quella che rappresenta i commercial secondo tutto quello che ti ho spiegato nella lezione precedente di circa centosettantamila col segno meno perché hanno più contratti short perché è così è un grande regalo quello che c'è nel senso una gran bella cosa sapere che qualcuno ti dica che esiste questa piattaforma perché gratis innanzitutto per la sua semplicità e perché traspone fa una trasposizione grafica dei dati che abbiamo visto precedentemente sul cot qua sopra quindi senza bisogno che tu vada a interpretare i numeri che hai visto in quel cedolino qua è l'andamento qui per esempio i large speculators stavano più short qua stavano più long qua stavano più short qua stavano più long bene non sto a spiegarti lo sai vero perché sono hanno questo atteggiamento speculare la linea verde la linea blu te l'ho spiegato nella lezione numero uno essenzialmente perché gli uni sono i speculatori che cercano di guadagnare adesso sui mercati e gli altri sono che per tutti i commercial che per tutti i motivi che ti ho spiegato nella lezione precedente attuano un atteggiamento contrario cioè se hanno l'attesa che gli altri comprino loro vendono sostanzialmente se lo fanno loro il mercato ok e timing charts ti dà questa trasposizione grafica ci sono anche degli altri tool che sono molto interessanti te li dico brevemente mi raccomando usali ti avevo già accennato erano venuti fuori l'altra volta ma sono finvis.com perché finvis.com non posso adesso soffermarmi qua nella registrazione tra l'altro potrai prendere nota perché ti voglio fare vedere l'applicazione tecnica di trading negli ultimi dieci minuti sul quote report in finvis.com studiatelo te se vai su futures qua tu hai l'elenco di tutti i tuoi future se puoi vedere per esempio io vado su currencies e quindi sulle valute clicco sull'euro ho l'immagine grafica dell'euro e che cosa ho qua ho la linea rossa in questo caso che rappresenta i large speculators la linea verde in questo caso che rappresenta i commercial i small traders channel non reportable position che la linea blu vedi di nuovo circa 100.000 rossi circa 170.000 verde e così via altro sito questo ce l'hai su tantissime cose quindi è molto molto bello finvis non mi posso dilungare ma come avrei visto forse velocemente non c'era solo le currencies ma ci sono gli indici ci sono le materie prime di vario tipo eccetera eccetera un altro sito molto carino è bar chart che io uso e che anche qua ti dà un'immagine dei quote report rapportato all'andamento dei pressi adesso però dobbiamo restare su timing charts perché timing charts che mi permette di farti vedere come un con serenità sapendo riconoscere come leggere il i quote report si può fare trading e ora capirai perché ti ho fatto vedere perché ti ho introdotto nella scorsa puntata se sei stato paziente sei arrivato fin qua e hai ascoltato tutto quello che io ti ho detto capirai che tutto aveva un senso perché tutto si va poi ad applicare qua non posso chiaramente qui spiegarti come andiamo a capire noi come vado io a capire il livello dinamico dei prezzi quello che hai visto sul robot e quello che ti ho fatto vedere perché chiaramente questo attiene un po alla nostra community e anche perché ti richiede del tempo chiaramente per impararlo anche se non tantissimo basta mettersi di buzzo buono e abbiamo i nostri corsi per questo ma ti farò capire quella filosofia che sta dietro che quella che già da stasera ti permetterà di riuscire a capire tanto e di riuscire già ad attuarla probabilmente e a capire delle cose molto molto carine che da questo momento sono sicuro che molto probabilmente seguirai o andrei a vedere per fare trading e ti assicuro anche probabilmente dirai wow perché capirai quello che ti ho detto nella scorsa puntata che esiste la possibilità di fare una solo operazione all'anno su uno strumento per esempio euro e di farla giusta e se quella operazione ti da il 10 15 per cento che ti frega di aprire in modo compulsivo 1812 trade durante l'anno se basta che ne fai uno fatto bene fatto bene secondo delle logiche precise per fare il più 15 per cento sulla tua equity line e ti chiederai perché non me l'hanno mai spiegato è facile perché i campioni usano le cose semplici di solito e alla carne da macello vengono riservate spesso cose difficili anche un po' inutili ci sono tante altre cose che sono sicuramente importanti aiutano per il trading però sicuramente lasciami dire che è una roba assurda che di queste cose non ci sia praticamente beh a me va benissimo che non ci sia formazione non ci sia una grande competenza perché così questo fa in modo che noi siamo un unicum che viene cercato per questo quindi per la mia attività imprenditoriale oltre che quella di trader sicuramente è bello però mi dispiace per le tante persone che non lo conoscono ed ecco perché anche in una in un webinar gratuito come questo io cerco di darti informazioni importanti perché prima di tutto siamo qua se abbiamo imparato delle cose per aiutare delle altre persone a non farsi del male e questo vale un po per tutti i campi della vita chiaramente poi vabbè io arrivando dalla psicologia chiaramente lo credo ancora di più magari rispetto rispetto ad altri però se tutti i traders cercassero come obiettivo l'indipendenza finanziaria che è il motivo per cui noi facciamo trading non esisterebbero più gestioni che poi perdono i soldi di tanta gente fatto un po alla carlona non esisterebbero più prodotti prodottini che promettono le cose facili senza un minimo di impegno invece mi piace tantissimo il cot perché permette nella sua semplicità di capire tante cose di capirlo personalmente ora guarda questo grafico del future dell'euro bene prima cosa che ti faccio notare guarda quanto segui la linea verde e guarda quanto i movimenti della linea verde si ripercuotano sull'andamento dei prezzi cioè come si muovono praticamente in simultanea nei loro su e nel loro giù perfetto questa è la prima cosa che ti fa capire quanto sia importante sapere leggere il grafico dei cot sapere leggere i cot significa probabilmente cosa ti sto già dicendo significa sapere bene o male probabilmente perché si vede occhio nudo sapere probabilmente dove andranno i mercati nel prossimo periodo bene nella didattica classica sui cot report spesso viene insegnato che c'è un momento importante che è quello dell'incrocio ossia quando per esempio non commercial e commercial ecco si incrociano e passano gli uni da uno short a un long e gli altri da un long a uno short sì è un buon momento qua vediamo che poi il prezzo sale quando c'è l'incrocio qua però vediamo che questo incrocio è assolutamente inutile perché noi dovevamo entrare short qua e ti sto per fare vedere che lo possiamo sapere che dobbiamo entrare short qua esattamente come potevamo sapere che dovevamo entrare short qua ok ho dato una piccola indicazione di quello che penso il tempo dimostrerà se avevo ragione o meno però detto questo se io aspettavo l'incrocio sono sempre troppo in ritardo e allora adesso comincio a farti notare una cosa che se apro un'altra immagine vedi che qua io ho inserito delle linee orizzontali una linea orizzontale qua è una linea orizzontale qua comincia a notare cosa possa significare però per capire cosa significa questo cioè l'interpretazione che tu puoi fare qui ti sto facendo capire che l'interpretazione dei grafici tu la puoi avere e fare su timingcharts.com adesso ti apro uno strumento che a me piace da matti in questo periodo e quello da cui ho iniziato e ti ho fatto vedere delle cose che evidentemente abbiamo indovinato negli ultimi dieci giorni con il nostro robot ma ti voglio dire che è basato tantissimo sulla lettura del cot alla base del mio robot che ti ho fatto vedere sta la lettura del cot quindi io ci credo veramente in quello che ti sto facendo vedere ok bene ti apro il grafico di quindi qua noi avevamo l'euro chiaramente scrivo il dollaro canadese non so come sia il cd io lo so già non lo so però scrivo canadian dollar quindi molto banalmente trovo il future canadian dollar dollar canadese al cme di chicago faccio quello che ho fatto prima quindi metto le mie candele metto il cinque anni e metto il cotto molto bene adesso voglio farvi un grande regalo ok che quello che vi avevo promesso e vi voglio perché così vi potrete potete giocare su questa piattaforma se mi ascolterete bene nei prossimi cinque minuti gli ultimi cinque minuti di questa live in cui si cerca di dare tanto no quindi chiaramente il tempo non basta mai però stiamo venendo alla parte principale e potrei farlo da solo ti ho dato tutti gli accorgimenti chiaramente per potere già provare la casa e ti introduco due concetti fondamentali che sono quello che ben conosci probabilmente già dell'iper comprato e dell'iper venduto normalmente concetto di per comprato di per venduto è un concetto chiave del trading su in una è veramente per me personalmente è il concetto del trading ok ma in questo caso quindi va sempre bene ma in questo caso lo vediamo sui corte e immagino un livello di iper comprato che metto per esempio vado facciamo così vado a mettere una linea orizzontale lo vedi dove sul punto in cui si trova in questo momento i non commercial i large speculators linea verde sul secondo i dati del court report sul dollaro canadese e inserisco un altarino orizzontale come avevi visto prima sull'euro lo metto dove dove in questo momento si trovano i commercial quindi coloro che attuano un atteggiamento contraria come abbiamo visto contraria a questo punto vediamo se questo è un livello sensibile e vado a cercare nello storico dei cinque anni il momento in cui i mercati hanno raggiunto questo livello che io suppongo essere che sia quello dell'iper comprato e scopriamo per esempio che la prima volta in cui lo vedo circa il primo agosto del 2017 vedi qua dove la linea verde interseca la linea bianca lato tracciato ma vediamo dove stavano i prezzi al primo agosto quando la linea verde incrocia quella bianca il primo agosto era facile supporlo ci troviamo qua al vertice di questo picco che cosa ha fatto lo vedi sulla destra siamo a 0.87 che cosa ha fatto nei giorni seguenti per il prezzo è sceso a 0.78 2 250 pips su sd cad non sono pochi ha una cosa importante ovviamente qua stiamo guardando il dollaro canadese sul dollaro americano quindi noi quando tradiamo abbiamo usd cad con usd al numeratore questo è il prezzo speculare in questo momento usd card come abbiamo visto è molto in basso perché c'è usd al numeratore ok in questo caso canadese al numeratore e quindi lo vediamo in alto cioè significa che in questo momento era molto molto forte canadese e io ti ho detto che ho l'aspettativa che adesso scende ti sto per spiegare perché bene quindi intanto abbiamo già visto questi 250 pips di profitto un pochino dopo diciamo al intorno qua intorno al 19 settembre quando c'è stato questo picco abbiamo che c'è stata più più la discesa poi abbiamo al 5 di febbraio qua dell'anno seguente 2018 eccolo qua più o meno eccolo qua abbiamo di nuovo il mercato che tocca questo ipercomprato e che cosa succede il prezzo scende tantissimo scende di nuovo ma questa volta scende di quasi 600 pips poi noto che anche questo discorso lo posso fare su quello dei commercial no sulla linea blu siamo intorno al 25 di giugno tocca questo questo livello ed è proprio il livello qua di questo minimo e poi il prezzo sale e sale da 0 75 0 78 abbondanti potrei andare avanti per delle ore ma quindi e poi però ti devo fare vedere questo ottobre novembre 2019 siamo qua c'è questa prima discesa ma poi c'è il precipizio quindi abbiamo agata cristi diceva che tre indizi fanno una prova ok tocca qua il prezzo va giù poi va giù di brutto tocca qua e poi va giù di brutto tocca qua primo livello tac e poi va giù di brutto non sarà che probabilmente andare a leggere sapere leggere i dati del cot e andare correttamente individuare un livello di percomprato potrebbe servirmi nella vita in modo molto semplice ti avevo promesso che ti faccio vedere qualcosa di concreto beh questa credo che sia una cosa molto bella e molto concreta e adesso dove siamo adesso siamo proprio in quel punto adesso siamo proprio in quel punto non solo abbiamo un bellissimo match perché siamo sul i per su quello che io suppongo essere il livello di percomprato sul canadian dollar con i non commercial e sul livello di per venduto dei commercial che cosa presuppone filosoficamente questa idea che t'assicuro che come hai visto anche l'hai visto anche da robot evidentemente una sua credibilità e una sua intelligenza ce l'ha beh che a un certo punto i prezzi raggiungano un livello di percomprato la il trader in balia dei mercati e delle informazioni qua continua a comprare a caricare e chiaramente invece i furboni che anticipano il mercato chiaramente capiscono che invece il momento di vendere ecco qui vista a grafico perché è molto sciocca la frase trend is your friend perché se tu entri adesso in trend is your friend come se entravi qua o se entravi qua ti facevi non male ma malissimo specialmente se eri stato abbastanza sprovveduto sprovveduta ad aprire in leva la tua operazione e capisci a questo punto allora il primo concetto chiave tac ho individuato i livelli in cui mi aspetto a questo punto quella operazione da fare in un anno questa era l'operazione che avevo da fare nel 2017 in short questa è l'operazione che avevo fare nel 2019 in short questa è l'operazione che avevo c'era anche una ne abbiamo visto anche una nel 2018 noi avevamo un'operazione short nel 2017 una short nel 2000 nel 2018 una short scusa nel 2020 dell'anno scorso ovviamente una short bellissima potenziale qua del 2021 una operazione all'anno capace di fare tanto ok perfetto in questo caso non ti faccio notare che il parallelo diceva che si poteva prendere anche benissimo questo long vedendo questo blu che era salito così tanto a questo punto che abbiamo individuato questo cos'è che ci manca la capacità di individuare i livelli perfetti di rottura che quello che fa la differenza io non mi posso dilungare purtroppo qua e mi dispiace tantissimo ma posso fartelo vedere graficamente cosa significa essere bravi a individuare i livelli di rottura significa questo significa in bianco vedi una trend line classica ok che veramente è una roba di una inutilità cosmica per quello che ritengo io se non per tracciare i livelli di dove prendere i take profit o gli eventuali stop loss ma non serve a nient'altro qui se tracciavi una trend line classica quindi il concetto qual è avevi individuato l'ipercomprato non entravi a caso ma aspettavi che cosa la rottura di un livello dinamico intelligente se tracciavi la trend line tu avevi messo la tua trend line qua e entravi comunque in ritardo troppo tardi sì no c'era comunque una bella roba da fare ma nel frattempo vedi come il mercato ritraccia qua idem qua se tu tracciavi la tua trend line sicuramente vedevi uno short qua e adesso staresti piangendo perché nel frattempo stiamo mille pips quasi sopra le vere linee di rottura quali sono sono quelle rosse quelle che tu hai visto sul robot che ti ho fatto vedere prima che quello per cui ti dicevo analisi dei cot dettagliata e poi quello che fa la differenza e andare a beccare le vere linee di rottura questa qua per farti l'esempio del passato che vediamo chiaramente occhio nudo questa qua è la linea che è io personalmente la sposto poi sul sul sui sui minimi che quella che mi farà poi entrare al mercato in un modo sereno e consapevole io in verità ho già beccato come ho fatto vedere all'inizio in live quindi senza trucco senza inganno i livelli che mi dicono ok secondo me si sta preparando il long di usd cad ma quello che io tenevo a fare questa sera era farti capire e farti vedere con i tuoi occhi come con un semplicissimo tool che è quello di timing charts tu puoi veramente innanzitutto abituarti a individuare che cosa i livelli intelligenti guardalo qua se non ci credi se pensi di che non sia tanto importante qua vedi i livelli di iper comprato e di iper venduto sull'euro ok guarda cosa è successo quando i mercati sono arrivati al livello di iper comprato che io avevo individuato ok questo fatto e adesso qua l'anno scorso diciamo quest'autunno lo scorso autunno già c'è arrivato ovviamente noi non siamo entrati a mercato qua ovviamente però sapevamo che ci potevamo aspettare questo era il timing che che abbiamo dato quest'anno che era lo short ha già fatto un bellissimo short adesso è tornato su come spesso succede e ritengo che sia un momento molto molto bello per andare giù la differenza la fa sicuramente poi sapere vedere i livelli giusti di ingresso ma non c'è niente di più bello che imparare ad analizzare queste cose e per concludere ti voglio fare vedere anche un indice quindi uno strumento finanziario che va sempre su quindi non è così automatico come abbiamo visto nell'euro dollaro dove i prezzi seguono veramente l'andamento delle mani forti ti ho fatto vedere no o l'abbiamo visto lo vediamo anche qua in questa immagine del canadino dollaro chiaramente l'indice nikkei tende ad andare su come tutti quanti come tutti quanti gli indici bene però anche qua imparerai a vedere delle cose che sono bellissime ovviamente che poi noi spieghiamo nel dettaglio ma te le voglio fare vedere perché sono comunque molto molto carine qua per esempio vi faccio vedere delle posizioni non reportable quindi delle come loro sono come noi delle del parco voi siamo sempre un po' indietro vedi questo picco no lui arriva qua in alto la linea rossa guarda cosa fanno i mercati tac anche qua guarda qua qua lui arriva fa questo avvallamento iper comprato delle non reportable positions i mercati che ok c'era il covid ok tutto quello che sappiamo ma in verità sapere leggere queste cose come dico sempre come sapere individuare i perfetti punti di rottura è quello che ci permette di sapere sempre stare sempre un passo avanti indipendentemente da quello che dicono le news da quello che succede nel mondo perché in verità vediamo proprio abbiamo visto oggi con i nostri occhi con i vostri occhi come quello che dicono i cot se si impara a leggere bene ci aiuta veramente a capire come fare trading nel quotidiano bene io proprio non posso andare avanti oltre perché è già durata l'oretta prevista questa anche qualche un paio di minuti di più questa lezione il mio scopo personale era quello in queste due lezioni di aprire un mondo a quanti più persone possibili di darvi anche degli strumenti gratuiti che ci sono per vedere qui i vostri occhi queste cose il mio invito è provate a capire troverete dei pattern incredibili e direte mamma mia che bellezza ovviamente noi seguiamo degli algoritmi precisi abbiamo imparato a vedere i livelli chiaramente che hai visto all'inizio di rottura per cui ti dicevo che il cot da solo non basta deve sicuramente esserci un algoritmo serio una capacità seria di riuscire a individuare il perfetto momento in cui entrare al mercato ma se lo sai fare ecco che ti si apre la strada per quelle 10 12 operazioni all'anno che ti fanno 1000 pips 800 pips 600 pips 1500 pips come abbiamo visto l'altra volta il timing che abbiamo dato ti ricordi su euro dollaro di acquisto a maggio del 2020 e ha fatto 1600 pips il 25 per cento in equity line come ti ho fatto vedere nella scorsa lezione questo è un trading sereno questo è un trading intelligente questo è un trading che ti auguro di conoscere sempre di più per qualunque chiaramente approfondimento informazione aggiuntiva sono al tuo alla tua totale disponibilità e sono felice di poterti aiutare grazie ancora giuseppe per questa occasione di di educazione finanziaria e grazie nuovamente al broker antique mill per averlo permesso grazie a te daniele per la spiegazione per questo secondo webinar purtroppo ragazzi siamo andati oltre l'ora so che ci sono diverse domande allora magari daniele se sei d'accordo ci diamo cinque minuti per rispondere a qualche domanda se puoi in maniera anche abbastanza telegrafica perché purtroppo siamo fuori l'orario canonico del del webinar poi ti faccio i complimenti perché ti sei anche esposto in maniera molto chiara sul dollaro canadese allora roberto ti chiede se si può controllare anche il nasdaq ho fatto vedere sull'esempio sul che quindi immagino che si possono controllare allora sì molto questa è una cosa una domanda molto che può servire tanto specialmente a chi vuole farlo più esercitarsi a casa quindi faccio vedere velocemente voi qua avete l'elenco di tutti quanti i future vedete new york chicago eccetera eccetera e se volete sapere come trovare le indicazioni sullo strumento che vi interessa per esempio in caso scrivete nasdaq 100 eccolo qua il nasdaq io ho fatto vedere il nikkei ma chiaramente ovviamente abbiamo le cose di pertinenza di americana no quindi abbiamo per esempio lo sta l'S&P 500 abbiamo il nasdaq e chiaramente dovrebbe esserci anche il dow jones e perfetto ok benissimo ok domenico poi ti chiede se si possono vedere anche il cross ovviamente questi sono mercati regolamentati sui futures quindi esatto in verità quello che noi possiamo vedere l'unico cross che possiamo vedere quello sul dollaro nel senso che come spiegavo chiaramente mette il grafico dei prezzi non mette sul sul dollaro ovviamente ovviamente poi sì se un trader volesse vedere sterlina yen per farti un esempio potrebbe controllare posizioni su sterlina e le posizioni sullo yen e da lì dedurre delle dei potenziali scenari giusto esattamente e questo lo scopo perfetto ecco questa è una cosa molto molto importante credo che sia importante dirlo io solitamente trado e io ho fatto mi sono esposto come ha detto come ha detto giuseppe su sd card io solitamente cosa faccio faccio l'analisi per esempio su franco svizzero e l'analisi su su yen giapponese e per esempio in questo momento io chiaramente posso avere l'attesa di uno short su chf jpy perché perché determinati dati dicono che chf è stato molto forte mentre jpy è stato molto debole e quindi il concetto di per comprato per venduto l'analisi quest'analisi fatta su ciascuna valuta rispetto al dollaro ci permette di poi mettere chiaramente andare a cercare quello che io dico una valuta debole con una fonte e quindi comprare la debole e vendere la fonte nel momento preciso ok perfetto poi ci sono tanti complimenti per te eh penso ti eh dice non ero riuscito ad essere in diretta la prima lezione di daniele ho recuperato la live su youtube e ora sono felicissimo di essere stato a questa lezione spiegazione chiara daniele daniele genera un'armonia incredibile solo ad ascoltarlo è vero molto vero questo e attonello sì hai una dote particolare un siamo tutti lì in religioso silenzio ad ascoltarti poi antonello eh dice sì le due lezioni sono registrati perché eh sono da rivedere con grande attenzione tanti complimenti per te va bene eh poi per qualsiasi altra cosa purtroppo ci sono altre domande anche tecniche su i siti che hai fatto vedere però eh mandate appunto un'email a da Daniele che è molto disponibile magari la rimetti Daniele se poi la vedete vi metto per sbaglio per tuo robot eh la metto qua eccola qua danielegarlando chiocciola gmail.com la vedete intanto la metto anche sul sulla chat di zoom Danielegarlando chiocciola gmail.com dovrebbe essere arrivata poi qualcuno ti chiede per aderire al tuo eh telegram poi allora per il telegram per la scuola per i robot per qualunque cosa ma anche soprattutto per la community del telegram a seconda dell'esigenza di ciascuno scrivetemi appunto privatamente vi spiegherò tutto ovviamente molto semplice quindi basta dipende da quello che una persona cerca no perché c'è chiaramente chi ha il piacere di più avere anche l'indicatore c'è chi ha il piacere di capire come sono le cose puoi farsele da solo ecco perfetto va bene quindi contattate Daniele perché come dicevo è molto eh disponibile anche professionale va bene grazie a tutti io spero Daniele che ci sia la possibilità di fare qualche altro webinar nel futuro vedremo per il momento ancora non abbiamo programmato nulla però chissà eh sicuramente faremo qualcos'altro insieme grazie ancora e vi auguro una buona serata a tutti ciao grazie mille